DF Colori. Scegli la tua sfumatura. La DF Colori è una società nata negli anni 70 per soddisfare le esigenze del professionista e del privato. La sede sociale, costituita da un ampio magazzino e da un moderno punto vendita, si sviluppa su una superficie di 500 metri quadrati e dispone di un ampio parcheggio. L'attività originaria di commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vernicianti, pitture, smalti, carta da parati, legno e moquette è stata integrata con l'offerta di nuove tecnologie utilizzate nell'edilizia quali isolamento termocappotto, pareti ventilate, malte, rasanti, cartongesso e pavimentazioni resinose. La DF Colori è inoltre in grado di offrire alla propria clientela un servizio qualificato di consulenza e realizzazione di qualsiasi tinta a campione per edilizia ed industria grazie alla presenza nel proprio laboratorio di due spettrofotometri e quattro tintometri.